Nome? Antonio Bentangelo. Età? 51. Professione? Avvocato. Quante volte si è sentito dire che non è di Castellammare di Stabbia dagli Stabbiesi Doc? In modo simpatico una volta da Nicola Cuomo. Mi mostri la patente? La patente, certo. Tra dieci giorni si presentano le liste, tra più di un mese a Castellammare si vota. E lei è il candidato di Forza Italia? Assolutamente no, l'ho detto in più occasioni. E allora chi è? Forza Italia ha un suo candidato, abbiamo al nostro interno Gaetano Cimmino, ingegnere già rivestito cariche istituzionali, che si è offretto, ha dato la sua disponibilità a se Forza Italia vorrà candidare un proprio uomo, ma è disponibile anche a dialogo con le altre forze moderate e con le altre forze comunque politiche della città per trovare anche un nome che sia oltre lo stesso Gaetano Cimmino nel caso in cui questo dovesse mettere insieme più anime nell'interesse della città. Cosa o chi ha bloccato il centrodestra? Il centrodestra non è assolutamente bloccato, il centrodestra sta lavorando, solo che non ha voluto dal primo momento impurre ed esprimere un suo nome, ma è all'ascolto della città e sappiamo bene che la città in questo momento sta dialogando molto e quindi c'è molto da ascoltare. Avete aspettato il PD? Assolutamente no, anche perché temo che uscirà negli ultimi secondi utili quindi penso di farla un poco prima. Vozza parla di baratto su Castellammare, è vero che si discute su chi fa il candidato a sindaco e chi fa il parlamentare? Non so dove si fa questo giochino, si vede che probabilmente Vozza verrà partecipato a questo gioco, probabilmente saprà dove si fa, io non so assolutamente nulla, non è così semplice decidere un candidato al Parlamento barattando una città importante come Castellammare. Se succede, succede in altre stanze che non frequento. Il migliore tra i sindaci che ha avuto la città? Ho avuto già modo di dire una volta, anche per il rapporto personale che mi ha legato a lui, una persona di grande statura, un democratico vero, Antonio Somma, nel mio ricordo. Il peggiore? Passo. Chi non vorrebbe mai come avversario in campagna elettorale? Significherebbe dire un nome e temere qualcuno. Le campagne elettorali ne ho fatte tante, tutte sempre con grande apertura di vedute, tutte fatte correttamente, quindi non temo nessun candidato in particolare, ma non mi devo candidare, quindi non ho timore di avere nessuno di fronte. Quale sarebbe il primo atto che un sindaco dovrebbe fare? Bene, questa è anche una domanda che mi è stata già posta. C'è qualcuno che aveva una risposta secca, ma che poi non è stata mantenuta. Io all'epoca dissi, credo di ricordare bene che la prima cosa è mettere mano ad un riordino preciso, attento, di quello che è l'aspetto economico-finanziario del Comune. Anche perché senza la garanzia della parte economica, senza l'aiuto della parte economica, non puoi dire nulla che non siano solo chiacchiere, quindi promesse fatte a chi ti ascolta e chi ti deve votare. Parliamo di Gragnano? Anche sì. Cosa ci fa Forza Italia con il PD di Silvana Somma? Questo è un po' un equivoco che si è generato. Forza Italia, a dire vero, è talmente forte a Gragnano che riesce ad essere un po' con Silvana Somma, una parte con Patrizio Mascono ed una parte, quella più rappresentativa, se non altro perché ha al suo interno i due consiglieri comunali uscenti di Forza Italia che stanno con Paolo Cimmino, quindi siamo riusciti a stare dappertutto, cosa difficile, non penso replicabile. Un saluto ai lettori del Corrierino.com Finora tutti i servizi che avete fatto sono stati ampiamente da me seguiti, apprezzati e quindi